Il Consiglio Comunale di Napoli, presieduto da Raimondo Pasquino, si è riunito oggi per completare la sessione di lavoro dedicata al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, con la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015. Dopo il question time con le interrogazioni dei consiglieri alla Giunta, l'Aula ha ascoltato la relazione dell'assessore al bilancio, Salvatore Palma, che ha definito il bilancio 2013-2015 come uno strumento coraggioso che servirà per cercare di entrare in un circolo virtuoso, pur in presenza necessariamente di alcune incertezze legate ai tagli nei trasferimenti e dalla riforma dell'Imu. Proviamo il bilancio in tempo utile, quindi prima del 30 novembre, che era il termine datoci dal governo, che è un bilancio importante, mette soldi per le strade, per la riqualificazione ambientale, per il trasporto pubblico, per le fasce deboli, per il patrimonio immobiliare, per i bisogni della casa, per salvare le società partecipate attraverso i posti di lavoro, riduce sprechi e costi che non sono più sostenibili, è un intervento strutturale anche verso il risanamento definitivo dei conti della nostra città. È un lavoro durissimo, siamo molto stanchi, però credo che è un passaggio che ci porterà a crescere sempre di più nella nostra città. Significa consolidare il lavoro delle maestre nei nostri asili e nelle nostre scuole materne e scuole comunali, partire dalla riflessione scolastica, migliorare il trasporto pubblico, far scorrere la graduatoria del concorso del Formez, l'iniziale stabilizzazione degli LSU, significa poter ipotizzare concretamente un concorso pubblico a breve, significa poter andare avanti con l'internalizzazione del patrimonio immobiliare, con la holding nel trasporto pubblico, con Napoli Sociale. Insomma oggi chi ha votato il bilancio ha fatto un atto per la città, chi ha votato contro ha votato contro anche affinché tutto quello che ci stiamo dicendo non potesse accadere.